Il potere del Miao è una suite felina, un po' romanzo, un po' saggio, autobiografia, osservazione etologica dei comportamenti felini e umani. Apparentemente è un libro che parla dell'amore per i gatti, in realtà è un libro che parla dell'amore definito in tutte le relazioni, tra gatti, umani, arte e letteratura. È una sorta di educazione sentimentale che ha per guida la creatura, che più di ogni altro se ne intende di fascinazione e di filosofia di vita.